Per te è la seconda volta che sei qui a Varallo, che ti fa essere di nuovo qui? È un po' come chiudere un cerchio perché l'estate scorsa, quando abbiamo partecipato all'Alpa, è stato poco prima di pubblicare Ricreazione e adesso appunto tornare sul luogo del delitto, dopo che ha portato così bene, insomma mi rende molto felice. Delitto perfetto hai fatto? Perfetto, assolutamente sì. Senti, tu adesso sei in tour, Ricreazione Tour? Siamo in tour, cioè io e i miei ragazzi numerosissimi, che poi vedrete, siamo in giro ormai dal mese di novembre e per fortuna continuano a aumentare le date e la gente è sempre più contenta e io non posso che essere grata e continuare a far circolare energia. Vuol dire che dentro al caffè allora c'era la pozzetta magica? Sì sì, dovevo ancora capire bene, ma tutta quella caffeina è servita a qualche cosa. A reggere il tour? No, beh, diciamo che c'è un'adrenalina veramente bella, insomma, c'è al di là degli scherzi, ma anche sono arrivata a fare le prove e c'è un calore tale, per cui insomma non importa quanta stanchezza hai addosso, quanto poche ore hai dormito, cioè ti senti fresco come un fiore, è assolutamente in dovere, ma in un senso molto positivo, di dover dare tutto quello che puoi e anche di più alle persone che sono lì con questi occhi sgranati, tipo lemuri, pieni di amore ed entusiasmo, insomma, è una grande fortuna e quindi bisogna goderne. Beh, è una fortuna anche per noi ad averti qua anche per questa volta. Grazie, grazie, grazie.